ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti cookie con gocce di cioccolato il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa ingredienti sono farina doppio zero burro zucchero semolato zucchero di canna uova gocce di cioccolata nocciole tostate lievito per dolci bicarbonato e sale andiamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale le nocciole tostate le facciamo tritare in maniera grossolana per 3 secondi a velocità 5 andiamo a mettere a lavarte le nocciole adesso senza lavare il boccale mettiamo all'interno il burro l'uovo lo zucchero semolato lo zucchero di canna il lievito per dolci il bicarbonato la farina e il pizzico di sale e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga l'impasto è pronto adesso aggiungeremo le gocce di cioccolato e le nocciole tritate lasciandole una piccola dose di entrambi da parte iniziamo con le nocce di cioccolato le nocciole le nocciole facciamo impastare per altri 30 secondi sempre a velocità spiga l'impasto è pronto adesso prendiamo una teglia ripestita da carta da forno e andremo a formare i biscotti dove li andremo a posizionare andiamo a formare i biscotti prendiamo una parte dell'impasto andiamo a formare una pallina delle dimensioni di una noce andiamo ad adagiare sulla teglia distanziamoli circa 5 cm uno dall'altro e proseguiamo così per il resto dell'impasto adesso aggiungiamo qualche altra goccia di cioccolato in superficie e dei pezzetti di nocciole e proseguiamo così per il resto dei biscotti adesso mettiamo in frigo a riposare per circa una mezz'oretta trascorsa mezz'ora usciamoli dal frigo e andiamo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 18-20 minuti o comunque sino a quando non saranno dorati in superficie i biscotti cookie sono cotti appena sfornati la consistenza in superficie sarà morbida una volta si saranno raffreddati raggiungeranno la giusta consistenza biscotti cookie con gocce di cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti